allora grazie a tutti continuiamo la serie delle lezioni della scuola interdisciplinare cosmo pulita e oggi avremo professor settis e che piero bevilacqua chiaramente introdurrà questa lezione io ricordo semplicemente di mantenere i microfoni chiusi in modo da consentire al professore di non essere interrotto e vi ricordo anche che tutte le lezioni compresa anche questa la settimana prossima troverete sul sito di transform italia ho messo in chat il link a cui potete accedere direttamente all'elenco delle relazioni di cui registrate e alla fine piero come di consuetudine poi ci dirà le prossime tappe di questo percorso intanto do subito la parola a piero per introdurre la lezione di oggi grazie ancora a tutte e a tutti grazie roberto è un grazie al nostro ospite a salvatore settis e allora poche parole di presentazione innanzitutto per dire che il relatore di questa sera è un archeologo e uno storico dell'arte ma è un eminente figura intellettuale cosmopolita al caso di dire internazionale vi assicuro che apparirei davvero apologetico se se vi elencassi tutti gli incarichi istituzionali che ha avuto che ha ancora in giro per il mondo però alcune cose le devo ricordare ha diretto il getty center for the history of art and the humanities di los angeles e membro del deutsche archeologischen istituto dell'american academy of arts and the sciences e presidente del conseil scientific del musee di louvre a madrid la cattedra del prado è stato rettore e direttore e direttore e poi rettore della scuola normale superiore di pisa e naturalmente un accademico dei lincei e qui vi risparmio tutte le onorificenze che ha avuto in italia in francia e in germania ecco a me piace ricordare un fatto salvatore asetti sia a dispetto di tanta gloria ufficiale è una persona assolutamente priva di boria di grande schiettezza un grande calabrese se mi consentite questo patriottismo regionale che ha spesso gran parte della sua vita oltre che agli studi e alle attività istituzionali di cui ho evocato alcune diciamo alcuni impegni ha dedicato la sua vita alla lotta civile politica in difesa della nostra costituzione del paese del patrimonio artistico italiano allora vi ricordo della sua vasta produzione scientifica non naturalmente diciamo le attività inerenti alla sua professione di archeologo ma quelle più direttamente legate al tema della lezione di questa sera e allora in ordine ricordo italia spa l'assalto al patrimonio culturale in audio 2002 una cosa che voglio dire delle di questi lavori di salvatore settisi che sono che mordono sull'attualità no che hanno una carica politica esplicita sono sempre sorretti da uno sguardo storico vastissimo di lungo periodo che danno una forza un'originalità straordinaria questi testi credo che non si possa capire davvero la storia dei beni culturali italiani senza aver letto questi libri di salvatore settis ricordo paesaggio costituzione cemento la battaglia per l'ambiente contro il degrado civile sempre in audi se venezio muore in audi 2014 costituzione perché attuarla è meglio che cambiarla nel 2016 allora la lezione di questa sera è lo strano destino dell'articolo nuovo della costituzione dalla costituente alla modifica del 2022 ecco do subito la parola a salvatore grazie ringrazio piero e grazie a voi che siete qui che mi ascoltate con speriamo sufficiente pazienza perché non sono non sono sicuro di incontrare le aspettative di voi perché solo pochi di voi li conosco personalmente una giustificazione iniziale che vorrei fare per parlare veramente di questo tema ci vorrebbe forse molti di voi l'avranno pensato un giurista io non lo so sono un archeologo come è stato detto mi sono occupato di questi temi soltanto come cittadino da un certo punto in poi ho visto accadere intorno a me quando sono tornato da sei anni di lavoro in california ho visto in italia che non mi aspettavo credevo che essendoci stato un'alternanza di dovene di centro sinistra di centro destra credevo di trovare qualcosa di diverso e ho cominciato a vedere quello che mi è sembrato un degrado della coscienza civile e allora ho cominciato a studiare come se fossi una matricola di giurisprudenza cominciato a leggere sentenza della corte costituzionale libri sulla costituzione eccetera e poi ho cominciato a scrivere prima sul manifesto poi su repubblica poi in anni più recenti ho scritto sul fatto e adesso scrivo sulla stampa eh ma ho scritto anche in in altri quotidiani cercando di però rappresentare un punto di vista da cittadino non da cittadino che però cerca di informarsi avrò anche un po' di prospettiva storica come diceva Piero molto gentilmente per perché quello fa parte del mio mestiere però le sottigliezze del del diritto non le frequento e ho cercato di capirle anche 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 devo dire utilizzando molto degli amici eh che sono alcuni amici che sono stati eh non so dei giuristi eh importanti e che mi hanno con la matita rosso e blu corretto questi libri soprattutto il primo Italia S.P.A. eh per assicurare che non fossero troppo pieni di strafalcioni quindi eh quello che dirò parte da questo da questa premessa su cui non mi intrattengo più. Devo dire però che il successo di questi libri che mi ha molto stupito eh anche i Italia S.P.A. che è il primo della serie dei primissimi anni duemila credo duemila e due continua ad essere ristampato e venduto eccetera eccetera. Il successo di questi libri eh mi ha messo in contatto con un mondo di cui avevo sentore ma che non avevo frequentato molto in particolare eh negli ultimi anni della mia vita io li avevo passati prima insegnando a Parigi poi alla eh a questo istituto di ricerca a Los Angeles e eh non 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 ovviamente sapevo che esiste Italia Nostra o il FAI o che so io e sapevo che esistono mille associazioni di quel di quel tipo però non ero mai eh non avevo mai fatto questa vita associazionistica e eh e e invece con questo lì con quel primo libro e con quelli che sono seguiti ehm fino all'ultimo che si chiama Architettura e Democrazia che è uscito qualche anno fa che sono delle lezioni che ho fatto alla Facoltà di Architettura eh della Svizzera italiana eh eh è successo che sono state queste associazioni che hanno cominciato a chiamarmi e a chiedermi di parlare di questo e di quello. Quindi io ho dovuto come come posso dire fare eh travestirmi da esperto di cose di cui esperto non sono anche perché poi tutte le volte che mi è capitato di discutere con dei giuristi che non la pensavano come me alla fine però ho visto che i miei argomenti non è che fossero proprio completamente destituiti di fondamento anche perché erano stati messi a punto eh eh o o o appuntiti se voi volete eh con ehm eh con l'aiuto di giuristi anche molto bravi di sinistra o comunque di idee eh non lontane dalle mie. Quello che però in tutte queste cose la cosa che ho fatto più di frequente sono delle eh conferenze, delle lezioni soprattutto nelle scuole ma in tutta Italia da ehm che so io eh eh treviso per dirne un mestre eh o o da 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 dalla Val d'Ossola fino a ehm a Trapani o o o o o la Calabria o la Sardegna e sempre non la cosa l'argomento più frequentemente rifiuto mi era l'articolo 9 perché l'articolo 9 della Costituzione è stato vissuto dagli italiani ed è vissuto e deve essere vissuto ancora come un baluardo contro le peggiori nefandezze che sono sempre in agguato in un paese come il nostro ma forse anche in qualsiasi altro. Eh e partendo dall'articolo 9 si potevano fare tanti bei discorsi. Dopodiché il titolo della mia eh lezione di oggi vi dice che qualcosa è cambiato perché con eh la eh il nuovo comma che è stato aggiunto ehm nella generale indifferenza eh un anno fa circa eh l'articolo 9 è cambiato. Quindi io vorrei provare a tracciarvi ora questo arco o dirvi che cosa eh come è nato l'articolo 9 nella sua formulazione originaria quella della Costituzione entrata in vigore il primo gennaio del milline novecento quarantotto quella uscita dalla Costituente e e e e quali sono state quali è stata la traiettoria per arrivare fino a quel punto e che cosa ora invece sta accadendo che cosa potrebbe accadere quali sono i rischi che questo modifico costituzionale può offrire. Eh ho sentito degli strani rumori spero che non siano mi continuate a sentire? Sì sì Salvatore eh qualche nuova arrivata che va bene è per strada e ha va bene va bene va bene va bene non importa perché 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 io non 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 abbia il senso che parlo e voi non mi sentite perché allora io vi leggo l'articolo 9 come oggi che eh che è fatto di due pezzi un pezzo è quello che è uscito dalla Costituente e un pezzo è quello che è uscito eh dalla dalla dai 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 parlamentari di ultima generazione non so come chiamarle allora ehm leggiamo prima l'articolo com'era la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica punto e questo sarebbe il primo comma poi secondo comma tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione punto e questo sarebbe il secondo comma naturalmente tutela il soggetto e la Repubblica perché eh brandoticalmente non può che essere quello così era l'articolo 9 fino a ehm non so quanti mesi fa un anno al massimo non lo so non l'ho controllato e non mi ricordo poi è stato aggiunto sono sono aggiunte le seguenti parole tutela si capisce che il titolo è sempre il soggetto è sempre la Repubblica tutela l'ambiente la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni e questo sarebbe il terzo comma punto la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali e questo sarebbe che il quarto comma eh questo questo comma questa questa aggiunta datata duemila e ventidue può essere è stata vissuta da alcuni ehm non parlo di persone con cattiva intenzione perché quelle non mi non mi interessa evocarle con un uditorio come il vostro ehm eh è stata vista da alcuni come un miglioramento ehm eh eh da altri invece tra cui ci sono anch'io come un peggioramento rispetto alla dizione originaria dell'articolo 9 però prima di arrivare a questo punto che sarà l'ultimo che tratterò vorrei parlarvi un po' della traiettoria del eh come si è arrivati all'articolo 9 e vorrei cominciare davvero molto da lontano non senza aver detto che l'articolo 9 eh era e resta era nella vecchia formulazione e con le nuove aggiunte uno dei dodici principi fondamentali della Costituzione non vi posso nascondere sin dal principio per anticipare qualcosa su cui tornerò alla fine che questa eh modifica che di cui vi ho letto il testo è il primo caso in cui uno dei principi fondamentali della Costituzione è stato modificato non era mai successo prima persino dei modificatori seriali come Matteo Renzi quando ha proposto la sua eh eh mega riforma di oltre un terzo quasi metà degli articoli della Costituzione per fortuna bocciata dalla saggezza dell'elettorato italiano quando ha fatto questo si vantava sempre ma noi non abbiamo cambiato i principi fondamentali principi fondamentali non si toccano invece si sono toccati nel momento si sono toccati ultimamente e questo è una delle ragioni di rischio perché una volta che si tocca uno dei principi fondamentali perché non si potrebbero toccare anche gli altri questa è una delle cose che eh io vorrei ehm ricordare come un discorso eh interessante e rischioso come facciamo a parlare della traiettoria dell'articolo dell'articolo 9 tanto per cominciare analizziamone alcuni elementi di questo articolo 9 alcuni elementi e ripeto che la mia sarà un'analisi magari lessicale spero non troppo sgrammaticata ma non un'analisi propriamente giuridica c'è una singolarità in questo eh in questo articolo anzi ce ne sono due uno che un principio come questo è un un tema come questo e fra i principi fondamentali di uno stato non era mai successo prima del 1948 da nessuna parte al mondo due che in questo eh tutela la eh sviluppo della cultura ricerca scientifica e tecnica paesaggio e patrimonio storico artistico sono messi tutti insieme cioè sono formano una unità formano una unità la quale pertiene a quella diritti della cittadinanza a quell'orizzonte dell'essere del vivere civile lo stesso orizzonte per cui eh l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro l'Italia è una repubblica non è una monarchia è fondata sul lavoro e non sullo sfruttamento eh dei 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 meno abbienti eh la Costituzione che poi sia così davvero eh è un altro discorso cioè eh eh quindi ci sono queste queste due questi due ehm chiarità eh da un lato eh la eh da un lato eh la costellazione di oggetti tutelati di 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 tematiche tutelate dall'altro lato il fatto che eh tutto ciò fa parte dei principi fondamentali della nazione di queste due cose una è successa solo con la Costituente cioè il fatto che entrasse nei principi fondamentali dello Stato prima non era successo mai né in Italia né altrove vedremo fra poco che i precedenti dell'articolo 9 non mancano in altre Costituzioni in particolare in Germania e in Spagna però non tra i principi fondamentali della del dello Stato invece l'Italia è il primo paese che li mette tra i principi fondamentali dello Stato come poi è successo ad altri paesi anche importanti negli ultimi venti o trent'anni. Invece l'altro mh elemento in particolare la singolarità di tutelare insieme il patrimonio storico artistico e il paesaggio questa è anche una peculiarità molto eh eh che è formulata in un in un modo talmente eh intenso e sintetico che credo che abbiamo ragione hanno ragione quelli di noi e spero che voi siete tra questi che sono fieri di questo articolo 9 considerandolo come diceva molto volentieri e spesso il presidente Ciampi il più originale della nostra Costituzione. Se vogliamo capire però come mai eh si è arrivati a tutelare il patrimonio storico artistico e il paesaggio dobbiamo inizialmente disaccoppiare queste due cose perché la tutela del patrimonio è molto più antica della tutela del paesaggio e comunque hanno marciato separatamente per molto tempo. Tutelare il patrimonio storico artistico tutelare il paesaggio è tutt'altro che ovvio. Tutelarlo in Costituzione è meno ovvio che mai. Nella Costituzione più antica del mondo fra quelle in vigore cioè quella degli Stati Uniti non c'è remotissimamente nulla di simile. In Costituzioni di grande importanza e di grande rilievo per esempio quella francese o tante altre non c'è nulla di simile. Per moltissimo tempo, per secoli, per mille anni o qualcosa del genere, per gli ultimi mille anni, per non parlare di quello che veniva prima, da nessuna parte nel regno d'Inghilterra o nell'impero russo o nell'impero ottomano eccetera, nessuno gli veniva in mente di fare una, non solo nelle Costituzioni che ancora magari non c'erano, ma neanche nelle leggi ordinarie veniva in mente a nessuno di tutelare il patrimonio archeologico, il patrimonio storico artistico, meno che mai il paesaggio. Questa storia è una storia molto complessa che non posso nemmeno riassumere oggi qui, però una cosa importante che noi ci ricordiamo, anche se la maggior parte degli italiani temo che lo ignori, che questa storia comincia in Italia e in Italia che si cominciano a sorgere delle norme a tutela prima del patrimonio storico artistico, poi del paesaggio, però con due percorsi diversi che poi da un certo punto si unificano. Proverò a riassumere questa cosa con pochi concetti e senza troppe citazioni perché altrimenti non basterebbe i 45 minuti grossomodo che mi sono stati assegnati. Perché si comincia in Italia a tutelare il patrimonio storico artistico e si comincia col patrimonio archeologico ed ecco una delle ragioni per cui io questa cosa la so perché somiglia al mestiere che dovrei fare e che a volte abbandono temporaneamente. Comincia in Italia la tutela del patrimonio archeologico perché ce n'è tanto e perché in particolare a Roma ce n'è tantissimo. Non c'è un centro archeologico al mondo che abbia quantitativamente, poi a uno può anche non piacere, può dire che gli piace di più l'archeologia mesoamericana, va benissimo, però non c'è un luogo al mondo con una intensità patrimoniale così forte. Questa intensità patrimoniale c'è stata sempre, c'è stata nella Roma antica che è arrivata fino ad avere nel secondo terzo secolo forse un milione e mezzo di abitanti, forse due, senza contare gli schiavi, quindi forse ancora di più e però quando poi la città si è disfatta e da una metropoli degna quasi del mondo di oggi è diventata un paesello di diecimila abitanti però accampati nelle rovine della città antica, per qualcosa come mille anni quello che restava non serviva molto, tutte le statue di bronzo venivano fuse per farne, che so io, monete, armi, utensili eccetera eccetera e le statue di marmo erano molto utili per farne calce, venivano bruciate per farne calce quindi si sono bruciate anche le opere che oggi avrebbero dei prezzi di mercato strepitosi ma che avevano avuto dei prezzi di mercato strepitosi anche nell'antichità stessa. Non c'è stato nessun interesse per le rovine, poi con un processo molto complicato che non proverò nemmeno a descrivere con poche parole da un certo punto in là. Forse databile al principio del Quattrocento, queste antichità abbandonate nelle rovine diventano improvvisamente significative. Pare diventare un grande collezionista di antichità era facilissimo nel 1420. Bastava disporre di un carro con dei buoi una diecina di facchini, si poteva andare nelle rovine di Roma, uno prendeva tutte le statue che voleva e se le portava a casa. Erano di nessuno e diventavano tue se tu volevi andare a prenderle. Questo però dopo che l'hanno capito i romani, quelli che stavano a Roma e non solo cardinali o grandi nobili, ma anche farmacisti, notai, mercanti di bestiame hanno cominciato a costruirsi delle piccole collezioni o grandi. Quando questo è diventato di moda nel giro di pochi decenni, Roma è stata sempre la città del Papa, era ritornata da poco alla città del Papa perché i papi erano ritornati da poco ad Avignone tutti quelli che venivano, ambasciatori, sovrani, personaggi di varia entità e significato che venivano anche per studiare le epigrafi o da un certo punto in là anche per studiare i manoscritti che c'erano la Biblioteca Vaticana e altre biblioteche, vedevano questo fenomeno del collezionismo di antichità che è un fenomeno contagioso, come vediamo anche oggi, e cercavano anche loro di avere questa antichità. E allora i papi hanno cominciato a difendersi. Quindi le prime norme al mondo, che io sappia, di tutela di qualsiasi cosa, di qualsiasi elemento patrimoniale, sono dei decreti pontifici che cominciano già con Martino V, in modo che sono poche righe, poi Pio II già fa di più. Insomma, una serie di editti, una serie di editti che sono emanati dai papi o per conto loro dal cardinal Camerlengo, che è per conto del papa, naturalmente con l'approvazione del papa regnante, emanano queste norme. E da lì parte tutta un percorso per cui tutti gli stati, tutte le città, tutti gli stati italiani che sono fuori dello stato pontificio, che ricadono sotto la sovranità del papa, fanno qualcosa di simile. Fanno delle norme molto simili. Se andiamo, dopo aver parlato del Quattrocento in modo così veloce e sommario, se andiamo a scegliere una data come 1750 o 1780, che cosa troviamo? Troviamo che queste norme di tutela del patrimonio sono molto simili in tutta Italia, praticamente in tutta Italia. Il Gran Ducato di Toscana ha delle leggi che sono simili, anche se non dipende dal papa. Il Regno di Napoli, dove intanto sono cominciati gli scavi di Ercolano, di Pompei e altri scavi un po' da tutte le parti, specialmente in Sicilia, fa delle leggi molto simili. Insomma, si scopre che dal Ducato di Modena, alla Repubblica di Venezia, agli stati pontifici, eccetera, si scopre che si fanno delle norme che si somigliano, il modello sempre essendo per la dignità di Roma, per l'importanza del papa in un paese fondamentalmente cattolico, eccetera, si viene a creare una situazione per cui tutti gli stati fanno delle leggi molto simili, anche perché si scopre che il modo come queste norme sono formulate affonda le sue radici in un antefatto grandioso che è quello del diritto romano, che viene continuamente riscoperto. E' da qui che nascono tutte le norme di tutela nel mondo. E bisogna dire che un'altra cosa relativamente poco nota è che oggi quasi tutti gli stati hanno delle norme di tutela, per esempio tutti i paesi dell'America Latina, dove ci sono culture precolombiane importanti, scavi importanti, anche scavi clandestini importanti, a cui si reagisce per l'appunto con queste norme, tutte queste norme però di tutti questi stati, come il Messico, il Peru, la Bolivia, eccetera, eccetera, sono delle norme relativamente recenti e in tutti i casi il modello è sempre, il remoto modello viene sempre dall'Italia. Basti ricordare, un solo esempio farò, quando la Grecia conquista l'indipendenza dell'impero ottomano negli anni venti dell'ottocento, immediatamente c'è bisogno di qualcosa per frenare le antichità che se ne andavano via in continuazione, come dimostrano i marmi del Partenone. Che cosa fanno? Qual è la prima legge di tutela della Grecia? E' una traduzione, praticamente una traduzione in neogreco, dell'editto del cardinal Pacca, 1819-1820, che sono gli eliti di tutela dello Stato Pontificio. Dunque, questo è il grande antefatto che c'è. Quando però l'Italia diventa unita, quando il Granducato di Toscana, i Ducati di Modena, Parma, Lucca, che era già peraltro entrato già a far parte del Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie, gli Stati Pontifici, prima senza Roma e il Lazio, poi con Roma e il Lazio, insomma, quando tutto quanto diventa gradualmente parte di uno Stato unico, uno potrebbe dire c'è questa grande storia alle spalle, si troveranno tutti d'accordo. E invece no. Invece no. Quell'accordo naturale, che era nato da uno sfondo di cultura giuridica comune, viene immediatamente a cessare. Perché? Perché c'era uno degli stati, degli antichi stati italiani, che di quella cultura comune non faceva parte. E questo Stato era, guarda caso, lo Stato leader nel processo di unificazione, il Regno di Sardegna, cioè il Piemonte e Savoia. Lo Statuto Albertino, 1848, rimasto nominalmente in vigore fino al 1948, lo Statuto Albertino non fa nessuna menzione di questo tipo di cose, anzi ha degli articoli appositi dove si dà assoluto priorità alla proprietà privata. E qui tocchiamo un punto molto importante, perché tutelare il patrimonio con leggi pubbliche vuol dire considerarlo almeno in parte qualcosa che appartiene alla comunità e quindi sottrarlo almeno in parte ai vincoli della proprietà privata. Perché se io dico che tutto quello che è privato, che il privato può fare tutto quello che vuole, può bruciare, lo autorizzo anche a bruciare le statue di marmo per farne calce, come era stato per secoli. Quando l'Italia si unifica, i vari Stati non riescono a mettersi d'accordo e quindi succede una cosa che rischia di succedere di nuovo oggi. Succede che, non sapendo bene cosa fare, prolungano, prorogano in questo specifico settore le leggi dei singoli Stati preunitari. Quindi, mentre l'Italia è unita, mentre il Re si trasferisce nel Quirinale, e il Parlamento si trasferisce prima a Firenze e poi a Roma, in Toscana restano in vigore le leggi del Gran Ducato, per quello che riguarda la tutela del patrimonio archeologico, artistico, eccetera, a Modena le leggi del Ducato, a Roma quelle del Papa, nelle due Sicilie quelle dei Re Borbone. E questa situazione dura molto a lungo, dura molto a lungo, perché la prima vera legge di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico in Italia è data del 1909. Pensate, 1860, l'unità 1870, arriva a Roma, poi arrivano gli altri pezzetti, ora non sto a riassumere cose che sapete meglio di me, e solo nel 1909 si riesce a trovare un accordo su questa. E perché è stato così faticoso? Ma perché i mercanti e anche i grossi collezionisti, in particolare le grandi famiglie principesche, in particolare di Roma, preferivano mantenere la proprietà piena per poterla vendere come volevano. E dal 1860-70 al 1909 come facevano? Molto semplice, le leggi più restrittive erano a Roma e a Napoli, uno voleva vendere qualcosa, lo portava da Roma o da Napoli a Torino e da lì veniva esportato di corsa senza nessun problema, perché lì non c'erano le leggi che proteggessero il patrimonio. Se guardate gli inventari dei musei, in certi musei le etichette hanno un numero che indica l'anno di accessione di un certo oggetto, se guardate quello vedrete che sono quelli gli anni in cui la maggior parte del patrimonio italiano che si trova in un museo all'estero si è disperso. Questa era la situazione e questo è il rischio che corriamo oggi, perché quando, come è accaduto in un recente convegno al Ministero di una settimana o due fa, dove io sono andato e ho anche parlato a rappresentare questa posizione che vi dico adesso, ma altri rappresentavano posizioni opposte. Si dice dobbiamo adeguarci all'Europa, ormai c'è il mercato comune, eccetera, eccetera. Questo vorrebbe dire che l'Italia ha leggi più restrittive, ma invece non dovrebbe averle più e tutto il patrimonio che può uscire, che potrebbe uscire, uscirebbe molto velocemente. Nel 1909 dunque, e chiudo questa parte, nel 1909 si fa una prima legge per la tutela, ce n'era una del 1902, prima molto debole, nel 1909 la legge si chiama Leggerava, perché questo era il nome del Ministro, in quella legge c'era un articolo solo che riguardava il paesaggio, passa alla Camera e viene bocciato al Senato, dove c'erano i grandi, il Senato di allora era un Senato non elettivo, ma di nomina regia, dove si entrava per censo anche, e i grandi proprietari terrieri, i grandi latifondisti, che so io siciliani o romani, i grandi principi erano lì, e un principe, credo Odescalchi, disse in Parlamento, io non conosco nessun paesaggio, conosco solo proprietà fondiarie. Il paesaggio non so cos'è. E con questo argomento meraviglioso, la tutela del paesaggio fu cassata dalla legge del 1909. Però con un percorso molto complesso, si arrivò invece alla prima legge del paesaggio nel 1922, con una proposta fatta nel 1920 da un Ministro della pubblica istruzione molto speciale che si chiamava Benedetto Croce. Quindi la prima legge del paesaggio del 1922, pochi mesi prima dell'avvento del fascismo, la prima legge sul patrimonio del 1909. Con l'avvento del fascismo, questo sistema sostanzialmente non viene toccato. Si fanno mille pasticci, cioè si consente di esportare delle cose agli amici del regime, Mussolini regala il discobolo a Hitler. Non voglio dire che ci fossero delle cose, che ci fosse una grandissima attenzione, però di fatto non solo non viene toccato, ma con le due leggi, Bottai, Bottai era il Ministro dell'Educazione Nazionale, nuovo nome della pubblica istruzione, con le leggi Bottai del giugno 1939, si arriva a una coppia di leggi sul paesaggio e sul patrimonio storico e artistico della nazione, che sto usando ora l'espressione della Costituzione, si arriva a due leggi che di fatto riprendono la legge Rava e la legge Croce e le imbellettano, ma senza sostanzialmente cambiarle. Questo spiega perché si è potuto scrivere, Sabino Cassese che lo ha scritto, che l'articolo 9 della Costituzione è la costituzionalizzazione della legge Bottai, quindi sembrerebbe un'eresia. In Costituzione ci mettono qualcosa che risale a leggi di un ministro fascista, e così perché queste leggi a loro volta risalgono al ministro Rava e al ministro Croce, cioè a due ministri dell'Italia liberale. Però questa unione di paesaggio e della tutela del paesaggio e della tutela del patrimonio storico e artistico in realtà ha dei grandi precedenti anche nell'Italia preunitaria. Si potrebbero ricordare tutte le leggi a tutela, per esempio, delle acque della Repubblica Veneta, che sono una pura meraviglia per chi di voi le voglia studiare. Di queste cose Piero sa meglio di noi tutti, credo. Ma ci sono anche, c'è anche, per fare con un po' di patriottismo meridionale, c'è anche l'Ordine del Real Patrimonio di Sicilia del 1745, con cui simultaneamente si mette in tutela, si mette sotto tutela, le antichità di Taormina, patrimonio archeologico e monumentale, e i boschi ai piedi dell'Etna, patrimonio paesaggistico. Dunque anche questo è un discorso di cui va tenuto conto fra le stranezze della nostra storia nazionale una particolare sensibilità a questo tipo di problemi. Nella Costituente si svolge su questo tema una discussione molto appassionata, con degli alti e bassi. I due firmatari della proposta dell'articolo 9 sono due persone diverse per generazione, per provenienza, anche se entrambi vengono dalle province meridionali, e soprattutto diverse per partito e per cultura. Uno è un anziano comunista, concetto marchesi, catanese, ma già rettore dell'Università di Padova, membro della Costituente, l'altro è un giovanissimo democristiano, giurista, che è Aldo Moro, oggi il secondo nome è noto a tutti, il primo un po' meno, ma meriterebbe di essere noto di più, anche perché, anche come latinista, era un personaggio di primissima grandezza. Sono loro due che propongono questo articolo, il quale nella Costituente ha un percorso molto tortuoso. Ogni tanto c'è qualcuno che dice, ma perché lo dobbiamo mettere nei principi fondamentali? Mettiamolo da un'altra parte, oppure ma perché lo dobbiamo dire? Ma è inutile, c'è già tutti. Come si può pensare che gli italiani non facciano queste cose qua? Ma è chiaro che gli italiani sempre, lo hanno fatto sempre e lo continueranno a fare. un deputato democristiano di Como, che si chiamava Clerici, dice ma ci sono tutte le leggi, anche l'editto Pacca, l'editto Pacca è stato copiato, l'editto del cardinal Pacca, è stato applicato a Roma, è stato copiato da tutti gli stati, anche fuori d'Italia. Come si fa a pensare? No, è inutile, è un articolo inutile. E poi continua a ritornare questo articolo, prima o poi, con svariate formulazioni diverse. torna con svariate formulazioni diverse. In queste svariate formulazioni diverse, l'articolo viene discusso molte volte ed è molto interessante seguire questa discussione della Costituente. Io l'ho fatto in questo mio libro già citato da Piero, che si chiama Paesaggio, Costituzione e Cemento. ho fatto un lavoro che i giuristi non amano fare, cioè quello di andare a spulciare le varie versioni. Ci sono ben undici versioni dell'articolo 9, prima della versione finale, ben undici versioni, e ogni tanto viene Cassato, poi ritorna a Galla. In questa discussione viene citato però un precedente, e questo è molto significativo, viene citato un precedente che era quello della Costituzione tedesca del 1919. La Costituzione tedesca del 1919 dice così, c'è un articolo, mi pare che sia l'articolo 150, dal numero capite che non è uno dei principi fondamentali, che dice, i monumenti dell'arte, della storia, della natura, così come il paesaggio, godono della protezione e della tutela dello Stato. È compito dello Stato impedire l'esportazione del patrimonio artistico della Germania. Tutto questo, l'articolo della Repubblica, l'articolo della Costituzione di Weimar, poi abolita di fatto da Hitler, questo articolo viene citato in Costituente anche perché in Costituente il modello dell'articolo 41, cioè dei limiti alla proprietà privata, è un altro articolo della Costituzione di Weimar. E queste due cose sono chiaramente collegate l'una con l'altra. Qualcosa di simile avviene, seppure in modo più indiretto, senza una citazione esplicita, ma avviene con l'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Spagnola del 1931, il quale, che è un articolo molto più lungo, che dice più o meno la stessa cosa e che si ispira anche lui all'articolo della Repubblica di Weimar. Ve lo leggo saltando qualche frase perché è molto lungo. Tutta la ricchezza artistica e storica del paese, chiunque ne sia il proprietario, costituisce tesoro culturale della nazione e sarà sotto la salvaguardia dello Stato. Lo Stato organizzerà un registro della ricchezza artistica e storica, garantirà la sua rigorosa tutela, proteggerà anche i luoghi notevoli per bellezza naturale o per riconosciuto valore storico e artistico. Dunque, in quel momento, quando la Costituzione italiana entra in vigore, i tre Stati al mondo che hanno in Costituzione questi principi sono solo... Cioè, ci sono questi due precedenti, due Costituzioni tramontate, perché la Costituzione della Repubblica Spagnola naturalmente finisce col franchismo, sono due Costituzioni, quella tedesca e quella spagnola, distrutte da due dittature e una Costituzione, quella italiana, che nasce dalla sconfitta di una dittatura, il 25 aprile, che abbiamo recentemente festeggiato, chi lo ha voluto festeggiare e chi non lo ha voluto festeggiare è andato all'estero, come abbiamo visto. La riflessione molto veloce che vorrei fare, a questo proposito, è che tutte e tre queste Costituzioni, Germania, Spagna e Italia, nascono in momenti di gravissima crisi del Paese. la pesantissima sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, lo stato di pre-guerra civile della Spagna negli anni Trenta, la pesantissima sconfitta dell'Italia, l'Italia bombardata e salvata dalla Resistenza, ma piena di rovine, della Seconda Guerra Mondiale per quello che riguarda la Costituzione italiana. però in questo articolo della Costituzione italiana, così com'era, mancava qualcosa, mancava qualcosa e mancava in particolare l'ambiente. Mancava l'ambiente. Perché mancava l'ambiente? Perché ci potremmo chiedere perché non si voleva, non si volle allora mettere mettere l'ambiente in Costituzione. non è che non lo si volle mettere. La sensibilità ambientalistica che per noi è così importante oggi non si era ancora creata né in Italia né altrove. La stessa parola ambiente ha assunto il significato che ha per noi oggi, soltanto negli ultimi decenni, quando sono cominciati i problemi dell'ambiente, dell'inquinamento, che è stato ben dopo il 1948, che cosa hanno fatto gli italiani di allora? E parlo anche dei politici italiani di allora. Hanno forse cambiato la Costituzione? Hanno forse aggiunto l'ambiente? No, non lo hanno fatto. Si sono accorti di questa cosa e hanno ragionato sulla Costituzione com'è o per meglio dire com'era nella Costituzione del 1948. Lo ha fatto in particolare l'organo esso stesso previsto dalla Costituzione che ha questo compito, ha il compito di interpretare la Costituzione per farla funzionare al meglio, perché le Costituzioni belle sono quelle corte, non sono quelle Costituzioni di mille articoli, sono le Costituzioni più brevi sono, più efficaci sono, poi bisogna capire quale ne è lo spirito e per capire quale ne è lo spirito tutti ci possono provare, anzi è doveroso che ci provi ogni singolo cittadino, però è ancora più importante che ci sia un organo a ciò preposto che si chiama Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale che cosa ha fatto? Con una serie di sentenze che cominciano negli anni 70 e si infittiscono negli anni a cui è stata sempre fino ad ora fedele, la Corte Costituzionale ha ragionato sull'articolo 9 vedendolo però non come un articolo che cade dal cielo come se fosse che so io un grosso chicco di grandine e non ha niente a che fare con tutti gli altri grossi chicchi di grandine che sono l'articolo 1, 2, 3, 5, 10, 12. L'hanno considerato come un anello di una catena, come un pezzo di un discorso, di un'architettura, come una colonna di un tempio, diciamo così, in cui c'erano anche altri articoli, altre cose. Per esempio, l'articolo 32 che riguarda la tutela della salute come diritto dell'individuo e come beneficio della comunità. Congiungendo in via interpretativa l'articolo 9 che tutela il paesaggio e l'articolo 32 che tutela la salute, la Corte Costituzionale è così a ragionare. La tutela del paesaggio si intende anche come tutela della salute, dunque tutela dell'ambiente, perché l'ambiente inquinato mette, danneggia la salute. L'inquinamento poi si può intendere anche come un inquinamento della psiche, quindi anche la bruttezza potrebbe, si è argomentato, essere, diciamo, estranea allo spirito della Costituzione e come tale potrebbe essere in qualche modo evitata, vietata o scoraggiata dalle leggi. Questo si è fatto allora e questa interpretazione della Costituzione io credo che sia molto interessante perché ha dimostrato che la Costituzione ha una tale ricchezza che può essere interpretata per quello che già dice senza aggiungere altre cose e quello che diceva Stefano Rodotà una persona che credo che manchi a tutti noi e quello che diceva Stefano Rodotà a proposito per esempio delle nuove norme che sono necessarie per la difesa della privacy in un tempo di internet, Instagram e tutte queste robe qua diceva che fondamentalmente quello che la Costituzione dice in qualche modo basta va interpretato naturalmente applicandolo a queste cose perché poi invece e invece poi che cosa hanno fatto recentemente? Hanno preso questo articolo della Costituzione e hanno aggiunto la seconda parte che vi richiamo e della quale ora parlerò i commi 3 e 4 tutela la Repubblica tutela l'ambiente biodiversità ecosistemi gli animali queste quattro cose sono state aggiunte era necessario? Io credo che non fosse necessario ho scritto in merito due articoli in due giornali molto che raggiungono un pubblico molto diverso uno sul fatto quotidiano e uno sulla stampa mentre la legge era in discussione nessuno mi ha mai risposto da nessuna parte ci sono stati anche articoli di giuristi che hanno sostenuto la stessa cosa e ora vi darò una breve reso conto di quello che ho scritto della ragione per cui quella modifica costituzionale è quantomeno superflua intanto la Corte Costituzionale ha affermato in una serie di sentenze per esempio una sentenza del 1982 che la tutela di la nozione costituzionale di ambiente è un valore costituzionale primario e assoluto in quanto costituito dalla convergenza in via interpretativa come vi ho detto dell'articolo 9 con l'articolo 32 nel 1982 un'altra sentenza della Corte afferma che cito la protezione dell'ambiente include anche la tutela del paesaggio la tutela della salute nonché la difesa del suolo dell'acqua e dell'aria dall'inquinamento ditemi se si può mai essere più chiari questo dice la Corte Costituzionale interpretando l'articolo 9 ed è un'interpretazione che come tutti i giuristi che ho consultato mi hanno confermato fa testo le sentenze sono moltissime non posso leggervele tutte vi do una piccola antologia 1987 un'altra sentenza della Corte dice parla della cito concezione unitaria del bene ambientale che deve essere comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali al fine di proteggere valori costituzionali primari che comprendono l'esistenza e le preservazioni dei patrimoni genetici terrestri e marini di tutte le specie animali e vegetali che nell'ambiente vivono cioè nell'87 eravamo più avanti del 2022 perché nell'87 si tutelavano anche i vegetali mentre nel 2022 se li sono scordati e i vegetali non ci sono dunque potremmo dire a rigore che i vegetali non sono in costituzione e gli animali sì bello bel risultato dello stesso anno 1987 un'ulteriore sentenza vi cito l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita non per astratte finalità naturalistiche o estetizzanti ma per esprimere le esigenze di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e del quale fanno parte le specie animali e vegetali altra sentenza 2002 l'ambiente sto sempre citando letteralmente dalla sentenza è un valore costituzionalmente protetto che delinea una sorta di materia trasversale ce ne ho ne avevo messe altre due o tre lascio perdere perché mi pare del tutto inutile insistere con cose di questo genere e invece lo hanno fatto hanno fatto questa cosa qui perché lo hanno fatto io non posso leggere nel cuore degli uomini nel cuore delle istituzioni però siamo obbligati a leggere nel cuore delle istituzioni quello che io vedo in questa concordia perché questa riforma costituzionale è stata approvata con una pressoché totale unanimità delle forze politiche essendo stata approvata con una maggioranza superiore ai due terzi dei parlamentari non richiedeva un passaggio referendario quindi non abbiamo avuto la possibilità di esprimerci in quanto cittadini credo che questa questa legge sia stata approvata soprattutto come foglia di fico perché invece di fare quello che l'articolo 9 vecchia formulazione più le sentenze della corte dice si è messo nella costituzione quello che la sentenza della corte costituzionale già diceva in modo da poter dire che si è fatto molto per l'ambiente ma intanto non si è fatto ben poco per l'ambiente si è però creato e lo si è visto con la divisione con la divisione e anche l'inimicizia anche fra le associazioni che si è creata si è visto che chi vuol difendere oggi i pannelli i pannelli fotovoltaici le pale eoliche eccetera eccetera dice che bisogna farle per difendere l'ambiente e quindi si è creato come qualcuno dice naturalmente non è così neanche con l'articolo 9 così com'è non dice questo ma hanno cercato di fargli dire molti stanno cercando di fargli dire e tra questi anche un ex ministro che peraltro gode dei favori anche dell'attuale governo sto parlando naturalmente di cingolani si è cercato di far dire a questo articolo 9 dunque alla costituzione che alla nuova formulazione dell'articolo 9 che la tutela dell'ambiente la tutela del paesaggio possono essere in conflitto l'una con l'altra invece la lettura porretta dell'articolo 9 anche come oggi è che bisogna ogni azione che incida sul paesaggio e sull'ambiente simultaneamente deve essere rispettosa simultaneamente del paesaggio e dell'ambiente questo è quello che io questo è quello che io ritengo vorrei ricordare anche un'altra cosa singolare perché abbiamo cominciato a ritoccare a ritoccare l'articolo 9 però la costituzione lo sport di modificare la costituzione quando non serve non è affatto necessario farlo ha avuto un recente un altro recente episodio di cui vorrei sapere da voi onestamente quanti di voi se ne sono un altro articolo della costituzione che è stato cambiato ancora più di recente non era uno dei principi fondamentali il 41 il 41 no 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 perché lì è stato introdotto ambiente è stato introdotto ambiente lì ma quello faceva parte della stessa della stessa della stessa legge costituzionale di modifica no c'è una cosa più recente una legge approvata dalla camera il 28 luglio 2022 a parlamento sciolto il parlamento era già sciolto e hanno approvato una legge di riforma costituzionale che ora fa parte della costituzione e cosa riguarda l'articolo 119 vi leggo la modifica la repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità allora la domanda che mi viene è d'accordo le isole e se io volessi proteggere le penisole perché non ci mettiamo un altro articolo e perché non ne mettiamo uno sui colli e un altro sulle valli e un altro sui letti dei fiumi eccetera eccetera cioè mi sembra che stia si stia innescando un meccanismo che a me personalmente pare rischioso di divertirsi a scrivere nella costituzione delle cose che non c'è alcun bisogno di scrivere perché è chiaro che la costituzione come quella del 1948 non è che non proteggevano le isole dico come si fa a non proteggere che so io la Sicilia ma anche anche Lampedusa chiaramente ecco credo che ci sia che ci sia il rischio di vedere questa specie di saga della verbalità o della verbosità per cui si allunga la costituzione aggiungendo cose che vanno benissimo perché chi chi di noi non vorrebbe tutelare l'insularità però anche la peninsularità scusate perché anche anche quella è importante mi pare che si che si rischia di mettere mano alla costituzione in modo tale da diciamo creare una sorta di inflazione della riforma dell'idea della riforma costituzionale che poi può portare a riforme di ben maggiore portata fra cui quella a cui molto tiene l'attuale governo quella che si chiama che va sotto il nome di presidenzialismo anche se poi fra di loro per fortuna pensano a cinque presidenzialismi diversi quindi è anche possibile che non riescano a realizzarne nessuno dei cinque però potrebbero invece realizzarne un sesto ancora peggiore di cinque ecco quindi io vorrei nel chiudere questa cosa dire che lo strano destino dell'articolo 9 è stato quello di mettere insieme il paese intorno al proprio suolo al proprio ambiente al proprio al proprio paesaggio al proprio patrimonio collegandolo con la cultura collegandolo dunque anche con la con la libertà di parola con gli articoli ventuno eccetera e metterlo insieme chiamandolo unitariamente nazione è una delle tre volte che la parola nazione ricorre nella costituzione nazione con la n maiuscola come va scritto quindi lo strano destino dell'articolo 9 è di essere stato quello che ha messo insieme la repubblica che ha affermato la sua fortissima unità concetto marchesi in un intervento memorabile alla costituente disse l'articolo 9 ci vuole così con la parola nazione per combattere prima che accada la raffica regionalistica e lui se ne intendeva come siciliano perché la ricerca ha dato questi rischi come qualcuno ha detto qualcosa che non ho sentito mi sentite ho forse scappato qualche espressione vai vai salvatore comunque stavo concludendo dopo che l'articolo 9 ha avuto nell'intenzione in particolare di concetto marchesi che funzionasse contro la raffica regionalistica anche se poi si può discutere se così sia stato o no lo strano destino dell'articolo 9 che è stato uno di quelli della Costituzione che più mette insieme l'Italia come una unità storica e quando si parla di popolo italiano è chiaro che si parla anche e si parla soprattutto delle generazioni future da un lato e l'articolo 9 però è stato il primo dei principi fondamentali della Costituzione che è stato modificato senza alcuna necessità in modo che potrebbe però aprire la strada ad altre modifiche a cui mi piacerebbe davvero non assistere vi ringrazio e io mi fermerei qui in attesa di domande d'ogni sorta grazie grazie mille Salvatore splendida lezione come ci aspettavamo da te abbiamo imparato tante cose anche io che conosco abbastanza questi questi tuoi lavori diciamo nonno di archeologo dunque do la parola a chi vuole intervenire apriamo un dibattito poi scegli tu se rispondere partitamente ai singoli che intervengono o raccogliere e mettere insieme un po' di domande grazie Battista Sangineto Battista se è possibile ciao Salvatore buonasera poi mi prenoto Roberto per la bellissima lezione davvero grazie io volevo introdurre anche un'altra modifica se era possibile ricordare che negli ultimi tempi ormai da qualche anno c'è questo problema dell'autonomia differenziata che introduce sostanzialmente un'altra modifica molto importante alla costituzione che è quella della regionalizzazione come ha detto Massimo Villone addirittura si assisterebbe alla nascita di 20 staterelli semi-indipendenti che avrebbero la gestione di 23 materie alcune delle quali una di queste è proprio quella che riguarda il patrimonio il patrimonio culturale il patrimonio della tutela oltre che della valorizzazione contro questa come appena ricordato peraltro contro questa regionalizzazione contro questa furia regionalizzatrice da parte della Lega di questo governo di Centro-Esta si era opposto all'epoca già con Centro-Marchesi che non voleva non voleva nello scrivere nello scrivere l'articolo 9 non voleva assolutamente io leggo qui perché l'ho appena riscritto sul giornale sul manifesto l'eccezionale patrimonio artistico italiano costituisce un tesoro nazionale e come tale va affidato alla tutela e al controllo di un organo centrale e anche sul suggerimento peraltro dell'Accademia dei Lincei dice anche il passaggio delle belle arti che erano insomma la rete delle sorrintendenze all'interregione dovrebbe renderebbe inefficiente tutta l'organizzazione delle belle arti che risale agli inizi del novecento organizzazione che ha elevato la qualità della conservazione dei monumenti e ha giovato a diffondere nel popolo italiano la coscienza dell'arte ora ecco con la con la con questa autonomia regionale ricordo peraltro che già tre regioni avevano firmato una bozza di preintesa ed erano Veneto Emilia Romagna e Lombardia con il governo Gentiloni ed erano già arrivati a bozze di preintesa io leggo qui insomma delle cose veramente per esempio alla richiesta del Veneto per esempio all'articolo 47,1 della bozza di preintesa dice in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono trasferite alla regione Veneto le correlate funzioni delle soprintendenze in materia di paesaggio presenti sul territorio regionale con l'attribuzione delle relative risorse umane finanziarie e strumentali cioè è una cosa in linea peraltro con l'hai ricordato anche tu col governo Renzi Renzi diceva che sovrintendente è la parola più brutta del lessico italiano quindi c'è un ulteriore una carica se adesso dovesse realizzarsi questa autonomia regionale ci sarebbe l'esplosione di nuovo insomma di questa tutela non si riuscirebbe a tutelare per niente in maniera unitaria il patrimonio meno che mai il paesaggio evidentemente quindi era più che una un'aggiunta diciamo alle cose che hai detto tu sì è un'aggiunta a cui farei ulteriori aggiunte nel risponderti perché non solo per dirsi che sono completamente d'accordo con te ma anche per fare qualche piccolo qualche piccolo ritocco al quadro che hai dato intanto quando hai parlato dell'Accademia di Lincei che ha contribuito in quella fase della discussione eccetera l'Accademia di Lincei in quel momento è stata veramente molto importante lì si sente il fatto che lo stesso concetto Marchesi ne era membro e che c'era un rapporto con Bianchi Bandinelli però la cosa di cui bisogna tener conto è che questa autonomia differenziata non c'è bisogno di cambiare la Costituzione perché ce l'hanno già messa in Costituzione ce l'ha messa il governo amato nel 2001 la riforma del titolo quinto l'hanno messa il governo amato nel 2001 quando le tre regioni che tu hai menzionato hanno fatto quella bozza di accordo eccetera eccetera e il presidente della regione Emilia Romagna era già Bonaccini non si capisce come mai lui ora dica che invece è contrarissima a una cosa che lui stesso come presidente della regione aveva chiesto questo è un mistero che io non lo conosco quindi non posso telefonargli per chiedergli perché sono sicuro che avrà una spiegazione intelligentissima però non riesco a capire quale sia ecco atroci comunque teniamo conto che la profezia perché tale era di concetto marchesi si è già realizzata perché c'è una regione italiana che è completamente che non dipende per nulla dal ministero ed è la Sicilia la Sicilia con un percorso che non richiederebbe quasi un'altra lezione per spiegarlo ma la Sicilia è del tutto indipendente il ministro dei beni culturali in Sicilia non conta nulla conta l'assessore locale un archeologo parliamo di archeologia perché come anche Battista appartiene a questa strana corporazione a cui appartengo anch'io un archeologo che lavori nella soprintendenza di Reggio Calabria non può essere trasferito a quella di Messina e viceversa perché sono due amministrazioni diverse mentre Concetto Marchesi diceva ricordiamoci delle organizzazioni del principio del secolo e pensava alle soprintendenze perché le soprintendenze sono ancora più antiche della legge del 1909 che vi ho citato la totale indipendenza di una regione è già avvenuta con conseguenze che per quello che ne so io come frequentatore della Sicilia non sono grandi conseguenze non sono conseguenze positive eppure io una volta ho chiesto al ministro Franceschini qualche anno fa quando c'era quella cosa delle tre regioni che tu hai ricordato ma esiste al ministero dei beni culturali un ufficio studi che abbia studiato quali sono le conseguenze in Sicilia della regionalizzazione il ministero avrebbe il dovere di studiare questa cosa in base all'articolo 9 alla parola nazione che c'è non è stato mai fatto questo lavoro mi hanno detto allora i collaboratori del ministro Franceschini e credo che sia vero posso suggerire di raccogliere un po' di interventi dall'audience e poi dopo ridare la parola a professor Settis io ho Laura che si era prenotata via chat e poi una serie di mani alzate Pinuccia Fascia e Marina Laura fate la parola ciao a tutti allora non mi sarei persa per nulla al mondo la lezione del professor Settis ho sempre pensato a lui come il presidente della repubblica e comunque come una delle voci più alte della patria la parola patria non mi piace preferisco matria però la uso come nell'introduzione della legge del 22 di Benedetto Croce che diceva appunto che i beni culturali i beni della natura sono il volto amato della patria è una legge meritevole rispetto a cui professore chiedo il suo parere la costituzione però ha fatto un balzo in avanti una rottura di paradigma perché non solo ha allargato diciamo i compiti di tutela della repubblica ma ha sostituito il concetto di bellezza della legge croce non più una bellezza alta non più un paesaggio di veduta il paesaggio delle rovine o il paesaggio cartolina ma un paesaggio largo in cui c'era anche un'idea nuova di patria perché c'era un'idea nuova di popolo e nel dibattito bellissimo di concetto marchesi riferimenti a Emilio Sereni si introduceva nel concetto di paesaggio anche il paesaggio minore cosiddetto minore il paesaggio agrario e quindi il lavoro degli esseri umani per costruirlo questo paesaggio di artigiani contadini eccetera e quindi veniva fuori un'idea di popolo che era un popolo costruttore non solo il popolo della dignità del lavoro ma un popolo costruttore di arte e di bellezza che mi sembra il grande fondamento etico di questo articolo un'altra cosa io sono diciamo molto lieta di aver sentito questa critica la introduzione il concetto di ambiente in costituzione non solo perché ha manomesso la costituzione ma perché costituisce proprio un arretramento e se il ministro Cingolani che è stato il primo a applaudire l'ha fatto perché dietro la narrazione retorica dell'ambientalismo c'è il capitalismo da shock il greenwash e gli affari non ci si rende conto perché tanti nostri compagni ambientalisti di superficie non si rendano conto di questa diciamo di questa deriva anche linguistica perché se nel concetto di paesaggio c'è una totalità armonica fra azione umana storia e natura nel concetto di ambiente c'è un riduzionismo dualista cioè come se si dice che gli esseri umani sono ontologicamente diversi dall'ambiente come se l'ambiente è uno sfondo diciamo e i tedeschi usano la parola natura che invece introduce il fatto che anche gli esseri umani sono natura invece nella nella parola ambiente c'è proprio un rapporto di totale separazione fra appunto l'impegno umano e le cose della vita gli esseri viventi e quindi invece che riparare forse è guastato grazie io accoglierei la proposta che è stata fatta di raccogliere alcune domande quindi non rispondo subito lo farò poi quando ce ne sono altre due o tre grazie professore Pinuccia sì allora io sì grazie io volevo porre un problema diciamo che per me è anche un problema teorico ma anche pratico cioè la tutela degli alberi e il rapporto con la costituzione io me ne sono occupata molto in quanto appunto ex amministratrice e ho visto insomma che forse l'unico modo per tutelare gli alberi al di là degli alberi monumentali che hanno e sono pochissimi comunque quelli riconosciuti come tali si possono forse tutelare attraverso i regolamenti per cui ad esempio ho fatto introdurre nei regolamenti che abbiamo approvato a Reggio a Genova e a Roma gli alberi di pregio però rimane sempre comunque un punto interrogativo appunto la tutela di questo straordinario patrimonio l'altro aspetto che avevo approfondito riguardava invece una prospettiva di tipo giuridico cioè quello che i romani facevano in particolare nel diritto giustinianeo cioè c'era un'azione che era l'Axio d'Arboribus che era il divieto di taglio degli alberi che nasceva naturalmente dall'obiettivo di tutelare il patrimonio agrario della Civitas su cui però si potrebbe diciamo inserire una prospettiva di maggior tutela quindi io penso e sono d'accordo con lei mi sembra anzi veramente interessantissima la sua prospettiva e condivido questa chiave di lettura della visione appunto della sentenza della Corte Costituzionale del 1987 che dà appunto questa visione di bene unitario a tutto l'ambiente però il problema poi concreto è che quando ci troviamo di fronte a degli alberi meravigliosi che sono il patrimonio del nostro paesaggio non riusciamo a tutelarli e quindi volevo sapere la sua opinione grazie grazie finuncia fascia scusate sono il Vigifasce di Genova di Equistituto ma anche come diceva quello di Europa Verde e mi sento settiziano metto sempre nel mio libro politica e costituzionale per le riforme deve esserci travolte in bibliografia ma sono anche madalegnano e la differenza sostanziale probabilmente sta nel fatto che io insisto a dire che i dodici principi fondamentali resterebbero valori senza il titolo terzo rapporti economici di cui la modifica dell'articolo 41 che secondo me dà diciamo sostegno su una base che potremmo definire di modello economico alla questione che i principi senza una programmazione costituzionalizzata non ditemi che che ci stanno che la stanno stracciando che l'hanno stracciata da dal 1990 ottuno fino ad oggi che hanno inserito il modello economico neoliberista spinto distruttivo ma la costituzione è ancora lì se ci fosse una forza politica una coalizione politica al governo la costituzione potrebbe essere rimessa in attività di servizio adesso io da psicologo dico che che praticamente è stata rimossa ma rimuovere non vuol dire cancellare per cui mi auguro che si possa riprendere il cammino Settis insieme a Paolo Maddalena e perché non ha detto una parola sull'articolo 41 il professor Settis grazie ho un'altra domanda e poi rispondo a queste quattro sì Marina ultima allora io ringrazio il professore perché mi ha dato occasione di riflettere su un aspetto che da persona diciamo semplice che non ha particolari competenze giuridiche non avevo avevo accolto questa modifica dell'articolo 9 della Costituzione come un fatto tutto sommato positivo forse sì magari non particolarmente significativo in quanto forse superfluo poteva anche essere superfluo ma comunque nell'ottica che diciamo nell'ottica che è ripetita Juvent per esempio era per me un fatto positivo che si volesse riaffermare qualcosa che è anche magari di superfluo in un momento storico in cui comunque l'ambiente è minacciato in maniera tale che non si era mai presentata prima una minaccia simile siamo in una situazione tale in una crisi ambientale climatica senza precedenti e quindi che in qualche modo ci fosse questa riaffermazione che si volesse risottolineare l'importanza di tutelare l'ambiente mi sembrava un fatto positivo invece adesso considerando tutta questa smania di modificare la costituzione di cambiare l'assetto della repubblica di volerla trasformare in in un numero di staterelli praticamente indipendenti togliendo proprio il corpo allo stato che abbiamo l'ossatura diciamo e trasformando quindi la nostra repubblica in una se è il numero di staterelli indipendenti o quasi che sono le nostre regioni e questa questa cosa qui mi sembra molto effettivamente pericolosa e quindi il fatto di riaffermare un'esigenza quella di difendere l'ambiente non vale il gioco nel senso se il gioco è quello sporco di cominciare a modificare liberamente la costituzione in questo senso come si vuole fare e probabilmente il fatto che Bonaccini che a suo tempo ha firmato gli accordi con con gli altri due rappresentanti presidenti di regione e la giustificazione che adesso dà al fatto di non essere perché poi di non essere d'accordo con l'autonomia differenziata in realtà è parziale perché lui dice di non essere d'accordo come d'altra parte la la segretaria di partito dicono di non essere d'accordo con il DTL Calderoli ma chissà forse intendono l'autonomia differenziata di boccia probabilmente altra cosa è accettabile dal loro punto di vista questa è una cosa che ci mi piacerebbe tanto che ci dicessero chiaramente un giorno invece poi un'altra osservazione l'ultima brevemente vorrei fare rispetto a questa apparente secondo me contrapposizione di interessi tra interessi dell'ambiente e quelli del del paesaggio il paesaggio fa parte dell'ambiente cioè una caratteristica dell'ambiente mi pare che si possa riconoscere una certa gerarchia di diciamo di problemi e di valori nel senso che un paesaggio è salvaguardato se è salvaguardato l'ambiente in cui è immerso perché se noi salvaguardiamo la bellezza intesa in senso diciamo tradizionale come la veduta o come il risultato delle attività degli esseri umani tradizionali e poi non pensiamo che l'ambiente salvaguardando quello e quindi impedendo l'installazione di pannelli o di paleoliche su alcuni siti in questo modo l'ambiente potrebbe essere talmente compromesso l'equilibrio dell'ambiente potrebbe essere talmente compromesso perché noi non scordiamocelo stiamo vivendo in una situazione di emergenza climatica per cui nei prossimi 50-100 anni forse molti di noi non è neanche troppo di interesse in quanto siamo anche un po' in là con l'età ma pensiamo alle nuove generazioni ai nostri figli nipoti e quindi pensare che l'ambiente possa essere veramente devastato da siccità da inondazioni da cambiamento anche quindi conseguente di anche di attività antropiche di urbanizzazioni e quindi l'ambiente appunto va salvaguardato anche per salvare il paesaggio e quindi l'idea di poter in alcuni casi ovviamente con una con una regia che sia con un piano che sia frutto di una regia nazionale che abbia un piano anche per lo sviluppo energetico nazionale che sappia individuare i luoghi e i tempi in cui queste installazioni debbano essere effettuate però ecco contrapporre ambiente e paesaggio mi sembra ecco fuori luogo grazie grazie a te Marina grazie a tutti io se siete d'accordo risponderei intanto a queste per non dimenticare meno bene che cosa cerco di essere breve allora rispondo nell'ordine in cui sono state fatte sono naturalmente d'accordo che fra la legge croce e la costituzione c'è un salto di qualità in positivo nel senso che la definizione del paesaggio è molto più onnicomprensiva anche se bisogna anche dire che croce essendo l'autore di una famosissima estetica viene troppo spesso accusato di avere avuto una una visione prevalentemente estetica del paesaggio in realtà nella sua relazione al senato si parla anche di di tutelare i beni storici sulla base sulla base del loro valore storico anche anche senza un valore un valore estetico però credo che sia vero quello che ha detto la prima persona che ha fatto la prima domanda adesso non ricordo ora i nomi perché non Laura vedo Laura ecco Laura Marchetti insegna Reggio Calabria Antropologia Salvatore bene mi fa piacere che venga dalla città dove ho fatto il liceo è giustissimo la cosa che ha detto ma veramente giustissimo che il paesaggio della Costituzione fa parte insomma coincide con la patria che coincide col popolo e infatti essendo fra principi e questo è il valore di l'articolo 9 fra principi fondamentali perché collega questo tema il tema della tutela del paesaggio e del patrimonio lo tutela con i diritti dei cittadini e con la dignità della persona umana quindi questo è sicuramente un vantaggio molto grosso passo alla domanda sulla tutela degli alberi degli alberi naturalmente è molto giusto come ho ricordato in una sentenza anzi in più di una della Corte Costituzionale si dice espressamente che l'articolo 9 implica l'articolo 9 esteso anche all'ambiente per la ragione che ho detto con la somma con l'articolo 32 implica anche la tutela delle specie animali e vegetali tutelare le specie non vuol dire tutelare i singoli individui così come non c'è in Costituzione la tutela che so io delle chiese rispetto ai palazzi o di una singola chiesa rispetto a un'altra le singole la tutela di alberi di pregio di cui c'è sempre più bisogno perché io vedo con orrore vedo sempre più spesso io non me ne intendo non so non so perché vedo troppi alberi potati in una maniera brutale da tutte le parti e vedo troppi alberi che vengono tagliati da tutte le parti non capisco perché non so giudicare però io ho a volte il sospetto che si facciano delle cose che si potrebbero benissimo non fare e credo che una maggior tutela dovrebbe essere garantita da una maggiore attenzione alla sostanza del precetto costituzionale e qui torniamo e qui a questo punto anticipo una cosa che appartiene piuttosto all'ultima domanda piuttosto che cambiare la costituzione qua e là aggiungendo si tutelano i singoli alberi eccetera bisogna fare questo bisogna fare qualcosa bisogna fare delle norme delle norme che portino nella direzione nella direzione che si vuole ecco la risposta a fasce adesso che riguarda che sono completamente d'accordo la costituzione è ancora lì noi dobbiamo dobbiamo cercare di farla modificare il meno possibile perché a furia di la costituzione non devono essere obese devono essere magre devono essere snelle devono correre devono essere pronte a correre nel momento in cui noi vogliamo fare avremo la possibilità di farle correre quindi da questo punto di vista sono completamente d'accordo perché non ho parlato dell'articolo 41 in realtà l'ho menzionato l'articolo 41 quando ho detto che anche sull'articolo 41 ed è questa una cosa di cui ho parlato molte volte con il mio amico Paolo Maddalena anche sull'articolo 41 anzi soprattutto sull'articolo 41 si discusse molto incostituente citando in continuazione l'articolo di cui non ricordo ora il nome l'articolo corrispondente della Costituzione della Repubblica di Weimar quella fu una delle principali e molto interessantemente a rifarsi alla Costituzione di Weimar per il limite della proprietà privata furono soprattutto alcuni dei cattolici per esempio Dossetti tutte cose che ho ricordato in un altro mio libro che mi pare non mi ricordo se Piero l'abbia citato o no che si chiama Azione Popolare questo libro che si chiama Azione Popolare che è un complemento a Paesaggio Costituzione del Cemento uscito un anno o due dopo in questo libro c'è tutta una parte che analizza il rapporto tra l'articolo 41 e l'articolo 9 in un modo che ora non posso certamente fare qui quindi sono non ho parlato dell'articolo 41 perché se mi dicono che devo parlare 45 minuti non voglio parlare 45 ore ecco e poi l'ultima domanda l'ultima domanda ecco sono contento che il discorso che perché le persone per bene che hanno accolto con piacere l'arrivo dell'ambiente in Costituzione sono milioni perché altrimenti ci sarebbe stato un sollevamento popolare io invece il mio ragionamento è molto semplice io se volevano dare un buon segnale sull'ambiente dovevano dire ci accorgiamo il governo Gentiloni Renzi Meloni quale sia ci accorgiamo di improvviso che la carta geologica d'Italia è incompleta completiamola quando il governo Monti ha tolto i finanziamenti al completamento della carta geologica d'Italia come si fa a proteggere l'ambiente o il paesaggio senza una carta geologica aggiornata invece di fare questo lo mettono in Costituzione allora io vorrei invece che facessero che ci fossero che un governo desse il segnale dell'attenzione per l'ambiente il paesaggio facendo delle cose non usando delle parole e schiaffandole nella Costituzione per farci credere che stanno facendo qualcosa quelle dieci righe nuove della Costituzione non hanno cambiato in nulla l'inerzia dei nostri governi rispetto alla sostanza del problema questo secondo me è il punto ecco e quindi potrei fermarmi qui ma c'è un'altra parte dell'intervento ultimo della domanda ultima ovviamente è chiaro che il paesaggio e l'ambiente sono in qualche modo si compenetrano l'uno nell'altro credo di interpretare più o meno ma si compenetrano l'uno nell'altro però dal punto di vista giuridico istituzionale non è così perché dal punto di vista giuridico istituzionale per delle ragioni molto complesse che ho analizzato in questo mio libro Paesaggio Costituzione e cemento e che mi dicono anche giudici della Corte Costituzionale so che è stato citato me l'ha raccontato proprio Paolo Maddalena quel mio libro in non so quale discussione alla Corte Costituzionale cosa che mi onora moltissimo perché evidentemente questo questo in questo discorso ho toccato un punto che certamente altri hanno trattato molto meglio di me che cosa è successo è successo che nella situazione attuale l'ambiente scusate il paesaggio lo tutela lo Stato sulla base dell'articolo 9 e c'è il ministero che si chiamava inizialmente ministero per i beni culturali e ambientali poi c'è il ministero dell'ambiente sono due quindi c'è da un lato un ministero un altro ministero e poi c'è il territorio non dimentichiamolo è il territorio delle regioni cioè in realtà si è creato un sistema un sistema di sovrapposizioni di sovrapposizioni di competenze che rende possibile praticamente tutto quando non si sa da che parte da che parte andare qualcuno dice ma io ho rispettato la legge regionale tal dei tali le leggi regionali sono diverse l'una dall'altra ci sono dei casi in cui c'è un lago e mezzo in una regione e mezzo in un'altra il lago di Garda è addirittura in tre regioni diverse e le rive sono amministrate da tre leggi regionali diverse di cui una di una regione statuto speciale insomma si crea un caos tale che non che 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 si apre la strada a tutte le possibili eccezioni deroghe e sostanzialmente abusi che non hanno questo nome perché si è creata una molteplicità di e di referenti questo è un altro dei problemi per cui il buonsenso dice che è vero il paesaggio e l'ambiente si compenetrano poi quando si arriva alle competenze reali bisogna vedere cosa dicono le leggi qualche volta è competente questo qualche volta è competente quell'altro basti ricordare che per nove anni se ricordo bene il ministero dei beni culturali e ambientali si chiamava così hanno creato il ministero dell'ambiente che prima non c'era si chiamava così per nove anni è esistito un ministero dei beni culturali e ambientali e un ministero dell'ambiente insieme dove stava l'ambiente allora con quale ministero di chi era la competenza può esistere un ambiente senza beni ambientali possono esistere beni ambientali senza l'ambiente eppure così è stato nella distribuzione delle istituzioni in questo stranissimo e meraviglioso paese ringrazio professore sento di raccogliere diciamo i ringraziamenti di tutti noi per questa splendida lezione che ricordo poi sarà disponibile sul sito di Transform Italia e nel chiudere do la parola a Piero che ci dà l'appuntamento per la prossima grazie ancora grazie Salvatore mi unisco anche ai ringraziamenti anche per queste magnifiche repliche magnifiche sia diciamo per le domande e le osservazioni avanzate e formulate che naturalmente per la risposta io chiudo non voglio trattenerti oltre e vorrei ricordare non retoricamente diciamo una verità molto semplice e cioè che non c'è maggior presidio per la tutela del nostro patrimonio patrimonio culturale e del nostro paesaggio che la consapevolezza da parte degli italiani del suo inestimabile e unico valore per cui lezioni come quella tua caro Salvatore sono preziose e noi le faremo davvero circolare grazie ancora e informo diciamo gli allievi se posso usare questo termine della scuola della scuola interdisciplinare e cosmopolita che finalmente riusciamo a onorare il secondo termine della scuola cioè il cosmopolitismo perché la prossima settimana il 4 di maggio alle ore 18 ci intratterrà Nabil Salame con la lezione il mondo arabo raccantato e cantato perché Salame è un è un personaggio singolare è un è sia un cantante musicista ma anche un giornalista che conosce che parla bene l'italiano e che sarà presentato dalla nostra Laura Marchetti allora do appuntamento alla prossima settimana e caro Salvatore grazie ancora a tutti grazie 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 con tutto il cuore grazie arrivederci grazie grazie grazie